Siamo già al ventesimo anno e forse qualcuno all'inizio magari non scommetteva nemmeno un euro, dice faranno un paio di anni e poi niente, invece grazie a Dio con l'aiuto di tutta la mia famiglia, dei miei figli, dei miei parenti, degli amici soprattutto, che si sono dedicati con amore, passione e dedizione a soddisfare quelli che sono gli obiettivi della fondazione, cioè promuovere la crescita culturale e sociale della collettività, ma soprattutto incrementare la ricerca scientifica. E questo è stato fatto fin dal primo anno, fin dalla nascita, fin da quando la fondazione è nata, con varie manifestazioni e vari contributi dati alla ricerca scientifica, alla ricerca nel campo della leucemia, dei trapianti, dell'Alzheimer, borse di studio più non posso in questo senso, borse di studio anche ai giovani ricercatori universitari, è stato fatto un acquedotto in Senegal, è stata fatta una scuola in India, per non parlare delle iniziative culturali, sociali che abbiamo sempre fatto. In parte noi intanto cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i donatori, spesso anonimi, che hanno consentito alla fondazione di traslocare dalla vecchia sede e ritrovarci qui in questa sede rinnovata. Il rinnovamento è la parola che credo che possa in qualche modo più di tutte segnare questo anniversario dei vent'anni, rinnovamento nei luoghi, ma anche rinnovamento come linguaggio, perché tra le attività che abbiamo posti in essere in quest'anno e anche in vista dell'anniversario di papà, c'è un'iniziativa rivolta ai giovani, rivolta alle scuole, cercando di parlare un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso, cercando di parlare il linguaggio delle nuove generazioni. Quindi anziché promuovere il classico, solito, tradizionale tema, scegliendo una tematica di attualità, premiando poi i ragazzi con una borsa di studio, abbiamo deciso quest'anno di chiedere ai ragazzi di realizzare un video breve, un TikTok, su quelle che loro pensano possano essere delle buone pratiche quotidiane di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alla riduzione dei costumi, al mantenimento della pulizia dei luoghi e quant'altro.